Il corso del 30 di maggio sarà un corso dedicato a pasticceria, innovazione e tradizione per quanto riguarda il settore della piccola pasticceria da ristorazione, dove dovrò spiegare ai ragazzi che con un solo boccone dovranno soddisfare mente, anima e corpo. In questi giorni lei è in veste di docente al Master della Cucina Italiana, quali sono i segreti che sta regalando a questi allievi? I segreti che sto regalando sono cose talmente semplici che ci siamo dimenticati, quindi la passione nel fare qualcosa, nel fare un dolce, nel portare a termine la missione di rendere felici la gente dopo un pasto. Quindi la semplicità, la dedizione per questa professione e la conoscenza soprattutto dell'esecuzione e dell'ingredientistica dei prodotti.